Quanto è importante essere riuscita a organizzare ma soprattutto a completare un corso di perfezionamento in esperte di politica di parità? Importantissimo, sono molto soddisfatta. La formazione è importante. Abbiamo 31 esperte in politiche di parità con un corso di perfezionamento universitario che matura ben 10 crediti formativi. È un corso di formazione importante e sono molto soddisfatta di tutte le nostre esperte. È stato un corso difficile, impegnativo ma anche gratificante con la cerimonia di oggi pomeriggio. Sì, una cerimonia importante grazie alla presenza ovviamente del magnifico rettore ma anche del presidente Gianni Chiodi che egli stesso ha consegnato tutti i diplomi. E ora il corso di perfezionamento numero 2. Sì, adesso partirà la seconda edizione. In effetti già da lunedì potrete accedere al sito dell'Università Telematica Leonardo da Vinci Unidav, scaricare il bando e iscriverti e riscrivervi. Avete un mese di tempo. Con la speranza che il Consiglio regionale d'Abruzzo torni sui suoi passi relativamente alla rappresentanza di genere. Ma per questo che noi stiamo preparando tante esperte. Grazie. Grazie. Grazie.